Ciao ragazze, questo è il video per annunciarvi che giorno 7, 7 aprile, quindi sabato faremo un incontro, io, Joanna, Warmless88, Cavallo, quindi Cavallo Cosmetico, Valentina, Chotolinks poi chi ci sarà? Dovremmo essere all'incirca noi faremo un incontro a Bari, dato che abbiamo visto che la Puglia è un po' esclusa dai vari incontri a dire la verità, tutto il sud è un po' esclusa quando si devono fare incontri tra youtubers e sta cosa non ci garba, quindi io e Joanna abbiamo deciso di creare questo piccolo evento e quindi passare una giornata, una mezzagiornata insieme allora, vi dico un po' come si svolgerà, quindi sabato, per chiunque di voi voglia venire so già che verranno solo le ragazze pugliesi però vabbè, li invito a essere su a tutte e staremo un po' insieme io e Cavallo arriveremo a Bari con il treno alle 9 e mezza poi aspettiamo Joanna e raggiungiamo le altre e ci vediamo per chi, non so, è comunque della zona di Bari o comunque chi deve prendere il treno, bla 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 ci vediamo verso le 9 e mezza durante la stazione di Bari centrale e poi raggiungeremo le altre non so se un altro punto di incontro sarà il McDonald o Sephora non ve lo so dire perché non l'abbiamo ancora deciso comunque, chiunque voglia venire chiunque magari, qualsiasi pugliese che ha un blog o non so, voi che ci seguite o comunque chi voglia venire l'invito è aperto a tutte quindi speriamo di passare qualche oretta insieme io e Cavallo ripartiremo verso le 4 di pomeriggio quindi dalle 9 e mezza insomma staremo un bel po' di ore insieme smangiucchieremo qualche cosa sperando che il raffreddore mi sia passato e nulla, io spero di vederli in tante perché davvero questa cosa che è il sud in particolar modo la Puglia perché bene o male incontri in... o forse Puglia e Calabria sono quelle più escluse Puglia sì, Calabria Sardegna in Sardegna l'anno scorso si è tenuto un incontro con Lolla in Sicilia non lo so comunque il sud è un po' escluso da tutti questi incontri questi incontri si tengono sempre a Milano e... vabbè sappiamo che comunque Milano offre probabilmente un sacco di ragazze di youtubers vanno a Milano per incontri scusate, lavorativi e quant'altro quindi capisco che la maggior parte degli incontri si tengono al nord perché diciamo che è un punto di trovo lavorativo però voglio dire anche a Napoli non è che si tengono chissà quanti incontri quindi comunque per le ragazze napoletane io verrò sicuramente a Napoli nelle prossime settimane perché ho bisogno di mangiarmi di nuovo una buona pizza anche se anche da noi la pizza è buona e Nolla quindi spero di vedervi in tante e chiunque voglia venire scriva un messaggio qui oppure su Facebook vi ricordo che io sono su Facebook basta cercare Susanna Sierra Mike Channel scavo sì, è lungo ma mi trovate così ecco, in quel modo quindi vi lascio tutti i link qui sotto e Nolla basta ci vediamo sabato un bacio a tutti e buona giornata ciao